Lo sport, sia esso professionale o amatoriale, è un fenomeno che coinvolge perlomeno in tutto il mondo occidentale uomini e donne. La storia dello sport tuttavia è stata a lungo caratterizzata dalla predominanza maschile nel campo delle attività sportive e a tutt'oggi è segnato da profonde differenze di genere. Gli uomini partecipano più delle donne alla pratica sportiva e al contempo gli sport maschili sono più rilevanti sia economicamente che culturalmente. Nonostante ciò, con il consolidamento dello sport moderno, le donne iniziano la propria ascesa, prima incerta, poi sempre più vistosa, nell'universo del mondo sportivo. Un esempio è la rapida ascesa della popolarità del calcio femminile avvenuta in questi ultimi anni in Italia. Però lo sport al femminile resta sempre una realtà di nicchia, poco conosciuta e pubblicizzata dai media, nonostante le qualità, la professionalità, il rigore e l'entusiasmo che le donne trasmettono praticando le loro attività sportive. Come rappresentante della Giba, Associazione Nazionale dei Giocatori e delle Giocatrici di Palacanestro, mi affianco e sostengo il manifesto Media, Donne e Sport. L'informazione ha e deve avere un ruolo fondamentale nella promozione dell'attività sportiva al femminile e delle sue eccellenze. Lo scopo che si vuole perseguire è quello di dare una piena valorizzazione delle donne nello sport, sport inteso come fattore di vita sana, di benessere e di salute. La narrazione giornalistica deve quindi essere una narrazione attenta, precisa, consapevole e corretta, con lo scopo di informare le persone sulle discipline sportive femminili e di dare ad esse la visibilità al pari di quelle maschili, in termini di spazio e di collocazione oraria. Noi ci crediamo, credeteci anche voi!